Mister Paolo Vanoli, l'Italia Under-19 si allena nelle strutture dell'Udinese, un bel connubio che vede i nostri campi in bianco-nero con anche due ragazzi del nostro settore giovanile. Per noi un orgoglio ospitarvi e come vi state trovando qui nelle strutture dell'Udinese? Ne approfitto per ringraziare l'Udinese Calcio perché venire a allenarsi in una struttura così vuol dire lavorare bene ed è veramente un piacere. Per quello che riguardano i ragazzi dell'Udinese se sono in nazionale è perché sono dei ragazzi di prospettiva perché se non meritano come tutti quelli che sono qua, non di certo perché siamo venuti a Udine. Quindi quello è una stagione che sarà lunga, è una stagione dove abbiamo l'opportunità adesso di fare delle amichevole importanti a partire dalla Croazia, poi nel mese di settembre avremo una doppia amichevole con Olanda ed Air e poi andiamo a fare questa prima fase importante di Elite. Appena fresco, promosso dal Under 18, un nuovo corso che vuole cominciare ovviamente sotto il segno dei nostri ragazzi azzurri, c'è tanta voglia di farli crescere per poi andare ad emergere nel calcio professionistico, c'è bisogno di nuove leve calcistiche che vengano dai settori giovanili? La mia promozione è solo un fatto di una crescita di questo gruppo dove si lavora tutti insieme, tutti abbiamo lo stesso obiettivo, tutti hanno lo stesso modo di lavorare. Quindi a partire da Mister Conte che è il nostro coordinatore, al vice coordinatore Maurizio Viscili dove attentamente ci stanno sempre dando istruzioni e preparando anche sul campo. Non dimentichiamoci la base più importante è arrivare dall'Under 15 di Antonio Rocca che è la base sulle nuove leve. Stiamo portando avanti un progetto che secondo me sia sotto l'aspetto dei risultati sia sotto l'aspetto dei giocatori in crescita si stanno vedendo. Non dimentichiamo che adesso Di Biagio ha portato anche un 97 in Under 21 che è Mandragola, quindi questo è segno che gli allenatori guardano sempre sotto perché come ti ho detto c'è una metodologia unica e questa è la cosa più importante per noi. Una metodologia unica che deve crescere questi ragazzi anche perché le future regole, insomma c'è questa iscrizione delle erose a 25 con i giovani che crescono al vivaio, i giovani devono crescere in fretta e sicuramente l'esperienza con le Under li può aiutare a maturare ancora più velocemente. Sicuramente quello che dà questo ragazzo le nazionali è una cosa secondo me importantissima che è il campo internazionale. Il campo internazionale ha altri ritmi, ha altre situazioni di gioco molto più impegnative, molto più importanti a partire soprattutto dall'aspetto più importante che è l'intensità e quindi questo le aiuta molto a crescere. Poi sicuramente il salto di qualità lo fanno sempre i club, a quanta fiducia daranno a questi giocatori. Ci sono stati dei bei esempi che stanno arrivando piano piano ad affacciarsi tipo Romagnoli che è stato venduto al Miene e questo è un sito ma anche se crediamo nei giovani sicuramente hanno un valore incredibile e noi lavoriamo per questo. Anche per dare una mano alle società stesse che comunque sia devono vedere i loro giovani crescere, viste anche le difficoltà economiche, lei era protagonista del Parma che vinceva la Coppa UEFA, il Parma che purtroppo è scomparso per vicissitudini societarie molto complicate, società che se puntano magari di più sul vivaio possono anche emergere meglio senza andare a spendere cifre folli. Sicuramente è l'unica strada adesso per uscire da una situazione un po' difficile. Parto sempre dal presupposto che il calcio italiano ha sempre un valore, dobbiamo solo ripartire veramente dalla base che sono i settori giovanili per arrivare alla prima squadra e questo ce lo dobbiamo mettere in testa però sto vedendo già dei grandi progressi soprattutto anche nel settore giovanile. Ricordo una cosa importante che un progetto non si può vedere da un giorno all'altro, si valuta in anni di lavoro e quindi anche la nazionale è un progetto, bisogna valutarlo tra qualche anno.